Eccolo qua, ecco, ti parevo sul più bello arriva lui, buonasera. E' Gianmarco? Non sono Gianmarco, sono Gianni, abbiamo già chiarito più volte questa cosa, tu insisti e insisti. Dai, scemo, non so che ti chiami Gianni, ma io ti chiamo Gianmarco, no? Eh, vabbè, ok, dimmi. C'è? Ma chi? Arriva? Ma chi? Arriverà? Ma chi? Di chi parli? Ma come chi lo sai, scemo? Ah, scusa un attimo, c'è una telefonata per me, un attimo solo. Pronto? Sì, è Claudia mia. Ehi, Claudia, come stai, amore? Tutto a posto? Chi? Ah, un po' di forfora? Forfora? No, guarda, io non me ne intendo molto, però credo che sia un problema di bulbo pirifero, perché il bulbo a un certo punto può produrre questa forfora. Compro uno shampoo, sì, compro uno shampoo tranquillo, va bene? Ok, ciao Claudia, ciao, ciao. Ma chi? No, scusa, era Claudia che mi chiedeva dei consigli, sai, perché io sono il suo consiglio. Sì, a chi va a chiedere consigli, la Claudia, a te che sei calvo, non ce l'hai? Cosa? Ho sentito che non ce l'hai. Ma cosa, vedete, cosa, scusami, che parli? Il bulbo. Il bulbo? Se non è il bulbo non possiamo fare niente. Senti, basta con questi doppi sensi. Siamo, lasciami parlare. Queste cose che dici, mi hai scocciato, sei anche volgare. Gianmarco, Gianmarco, mi fai parlare un attimo? No. Che aggredisci, aggredisci sempre. Sentiamo che hai da dire, forse. Assolutamente, c'è quella radice, no? Eh? La radice dei tuoi capelli. Sì. Se non ce l'hai, non possiamo fare niente. Non è che non ce li hai. Vabbè, non insistere. La domanda tu ce l'hai il bulbo, detta da te, sono mille, un'altra cosa. Quindi basta, hai capito? Non ci tofanare più, perché non sono una persona volgare come te. Dio, quanto mi piace, quanto ti arrabbi. Ma guarda questo. Ma... Sei geloso, non so che sei geloso. Ma di che sono geloso? Sei geloso della mia amicizia con Maurizio Aiello. Ma chi se ne frega di Maurizio Aiello, figurati, perché è pure uomo quello, non ho capito. Eh? Scemo. Cosa? Voi siete tutti uguali. Cosa? Gli uomini, tutti uguali. Perché? Ti state lì ad aggredire, a dire delle cose orrende. Cosa dici che Maurizio Aiello non è uomo? Capisci? Maurizio Aiello non è un uomo. Maurizio Aiello è bellissimo, capito? E c'è una bella differenza. Ma per piacere. Poi gli uomini li ammazzerei tutti, guarda. Ah, meno male, l'hai capito finalmente. Passa, ecco, le donne invece sono più sensibili. Sì, le donne sono più carine, voglio dire. Meno male. Perché gli uomini volete tutti la stessa cosa. Ah sì? E che vogliamo? Sentiamo da te. La merenda per il lavoro. No! Questa l'ho già sentita, questa è la Marenna Pafatica. Lo dice Mare Arca sempre. Come dice lei? La Marenna Pafatica. La Marenna Pafatica. Eh. Come parli, Gianmarco? No, guarda, tu hai copiato da Mare Arca questa cosa, la merenda per il lavoro. Chi, Mare Arca? L'hai vista Mare Arca da dietro? No, non l'ho mai vista. E' uguale a te. Cioè? Calva. Ma per piacere, Mare Arca è calva. Io copio, io non l'ho mai copiato. Ma senti, comunque vabbè. Sono gli altri che mi copiano. Sì, immagino, vabbè. Comunque mi fa piacere che hai deciso che gli uomini li odi, vabbè. Meno male. Ti presento una ragazza se vuoi, va bene? Scemo. Come? Odio tutti, ma tranne qui. Eh? Scemo. Scemo. Grazie a tutti.